Una stagione all'insegna di Verdi, perché questa scelta? Un programma che si diversifica da quello che il maestro più o meno aveva indicato inizialmente. Ma è sicuramente una scelta coraggiosa e tradizionale, perché il pubblico ha richiesto anche a gran voce queste opere, conosciutissime, la bucca è traviata, è molto particolare il dittico con questo campanello buffo e il paletto di Sherazad per andare sempre più incontro a un pubblico esigente e giovane. Particolarità della stagione, uno sguardo ai giovani. Sicuramente sì, una campagna che ha visto protagonisti giovani, il lavoro molto con le scuole, con le università. Questa provincia ha voluto aprirsi ai giovani, al pubblico giovane, perché sempre più possiamo formare anche dei buoni spettatori di un domani.